Di nuovo buona domenica, gran premio di Misano, primo Martin, secondo Bagnaia, terzo Mormidelli e quarto Bastianini, una partenza disastrosa per Bagnaia che lo mette in difficoltà e permette a Martin che era partito come quarto di vincere lo sprint race e portare a casa tre punti in più che lo aiutano per quanto riguarda la classifica mondiale. Sicuramente Bagnaia ha fatto mea culpa ed è pronto oggi per la gara per poter dimostrare di poter essere di nuovo ad alto livello con la voglia di vincere, con la voglia di fare, con la voglia di rimanere primo e di recuperare i 26 punti di vantaggio che in questo momento Martin ha su di lui. Vi ringrazio sempre per seguirmi, vi invito a cliccare in basso a destra, iscrizione gratuita e potrete dire liberamente la vostra sullo sport. Ciao!